Un posto al sole, trame puntate al 14.06, Ferri tiene sotto controllo la mamma di Tommy. Le trame delle puntate di Un posto al sole previste dal 10 al 14 giugno, in prima visione assoluta sul Rai 3, rivelano che Roberto Ferri continuerà a tenere sotto controllo la mamma di Tommaso. Ida e Diego porteranno avanti la loro battaglia per cercare di far ottenere alla donna i diritti sul suo bambino, anche se l'imprenditore non li perderà di vista nemmeno un attimo. Intanto per Clara ed Edoardo arriverà il momento del sì, i due si uniranno in matrimonio malgrado il parere negativo di Alberto. Roberto Ferri tiene sotto controllo la mamma di Tommaso, anticipazioni Un posto al sole al 14 giugno Ida e Diego porteranno avanti il loro piano, intenzionati a far sì che la donna possa riavere pieno controllo sul suo bambino. Un vero affronto nei confronti di Ferri, che nonostante le difficoltà deciderà di non mollare la presa. Continuerà a tenere sia Ida che Diego costantemente sotto controllo e non vorrà perderli di vista per evitare che la ragazza possa avere la meglio. Intanto Marina inizierà a mostrare dei chiari segnali di insofferenza nei confronti di questa situazione che vede coinvolto il marito e ben presto tra i due si creerà un po' di nervosismo. Roberto si è arrabbiato con la sua ex Lara Martinelli e negli episodi precedenti della SOP, Roberto aveva affrontato anche il ritorno nella sua vita dell'ex Lara Martinelli. La reazione dell'imprenditore non era stata delle migliori, e dopo aver appreso di un incontro tra la donna e la sua compagna Marina, non ha perso occasione per andare ad affrontarla a casa. Ferri si è presentato furioso dalla RA, urlandole contro di non intromettersi più nella sua vita, fino ad arrivare a perdere il controllo della situazione mettendole le mani al collo. Clara ed Eduardo decidono di convolare a nozze insieme per Clara ed Eduardo arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore con il matrimonio. Intenzionato quasi a strangolarla pur di liberarsi per sempre della sua presenza. I due decideranno di sposarsi in carcere, Clara sarà convinta al 100% della sua scelta, malgrado la reazione negativa di Alberto. L'avvocato, temendo di poter perdere potere sul suo bambino, cercherà in tutti i modi di ostacolare le nozze tra la sua ex e il fratello di Rosa, senza però riuscire ad avere la meglio. Nunzio e Rossella continueranno a vivere una situazione delicata, i due alterneranno momenti di felicità a quelli di crisi, che li porteranno a vivere momenti di tensione.